E l'economia circolare è il tema al centro dell'edizione 2017 del Treno Verde, l'ormai consueta iniziativa di Lega Ambiente per promuovere le tematiche ambientali, le politiche sostenibili, diffondendo l'informazione scientifica. Una campagna che, come negli anni scorsi, vede i volontari dell'Associazione girare l'Italia su un treno trasformato in sale esposizioni e convegni. Diversi momenti di approfondimento previsti per la tappa salernitana. Dal futuro del biogas alle problematiche normative dell'economia circolare. Alla presentazione, prevista per sabato mattina, dei risultati del monitoraggio scientifico su inquinamento atmosferico ed acustico avviato in questi giorni a Salerno dai tecnici di Lega Ambiente. Sempre sabato sarà firmato un contratto per trasformare la stazione ferroviaria di Ponte Cagnano nella prima green station della Campania. Treno verde che dà l'occasione per fare il punto sulla situazione della raccolta differenziata, su quanto fatto e su quanto ancora resta da fare, anche dal punto di vista normativo, per renderla più efficiente. La raccolta differenziata è il primo passo perché raccogliere in maniera separata i rifiuti è il modo migliore per poi avviare il recupero di materia e non invece la discarica e incenerimento. Servono regole chiare, servono processi di partecipazione e comunicazione importanti perché quando si avvia un percorso di raccolta differenziata bisogna istruire e spiegare ai cittadini non soltanto come si fa ma anche perché si fa e questo è il primo passaggio. Quello che però serve è anche una normativa che sia poi in grado di favorire il recupero di materia e quindi avviare tutti questi materiali al vero riciclo e poi poter recuperare nuova materia invece che poi recuperare energia o mandarle a smaltimento. Su questo passaggio chiaramente più che i cittadini devono intervenire le istituzioni. Economia circolare che potrebbe riservare notevoli risvolti anche occupazionali. Si parla di 190.000 nuovi posti di lavoro soltanto in Italia. È chiaro che il riciclo dei materiali, il riutilizzo anche di cibo, di tutto quello che può essere ovviamente messo a disposizione di chi è meno abbiente, di chi ha difficoltà è un punto importante dal punto di vista sociale. Poi come diceva lei effettivamente si tratta di un settore che può portare anche opportunità di sviluppo importanti, opportunità per la creazione di posti di lavoro sia nel mondo green, quindi nel mondo dell'ecologia ma anche e soprattutto come si diceva nel mondo sociale.